Benvenuti, cari follower! Quindi un avviso molto importante e urgente. Forti temporali colpiranno queste zone questa sera, martedì 4 giugno 2024, e tra poche ore, con rischio di caduta di chicchi di grandine e rischio di improvvise piogge torrenziali, ma prima che arrivino nei dettagli, non dimenticare di supportarci prima premendo il pulsante, mi piace per questo. Il video ci motiva a continuare e offrirti il meglio. Quindi, come vedete sulla mappa davanti a voi, le regioni settentrionali dell'Italia saranno esposte a temporali molto forti questa sera, martedì, e questi temporali porteranno con sé la caduta di grandi quantità di pioggia, insieme anche a grandine. A partire dal mezzogiorno di oggi, martedì, sono attesi piogge e forti temporali su Piemonte Valle a Osta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli Venezia, Giulia Veneto. Piogge e temporali su diverse zone della Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Costa Orientale della Sardegna. Qualsiasi altra notizia importante, cercheremo di aggiornarvi più tardi?